Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo tutorial dedicato al mondo Mekintosh Lo so, lo so, ho tardato tantissimo, sono stato praticamente un mese senza caricare nulla sul canale, mi dispiace ma come vedete dal nuovo sfondo e anche dal fatto che tuttora sto parlando con voce a metà, diciamo così ho avuto un po' di distrazione in questo periodo e ho veramente avuto la testa da un'altra parte sono stato una settimana a Londra per tutta una serie di concerti e quindi diciamo che fra i concerti veri e propri il viaggio, il fatto che sono tornato completamente senza voce e adesso anche vedete che tuttora parlo un po' a tre quarti ho avuto veramente poco tempo da dedicare al canale ma adesso sono tornato e volevo cominciare con un piccolo tutorial dedicato a un problema più che un problema a una precisazione che qualcuno mi ha fatto notare chiedendomi dei chiarimenti e ho pensato è un'ottima occasione per farci sopra anche un filmato nuovo allora questa persona mi ha fatto notare che in realtà su un Mac che sembrerebbero esserci più cartelle delle applicazioni e non una sola e tante volte una contiene tutte le applicazioni e l'altra sembra essere sempre vuota perché ce n'è più di una? Perché una è tutta vuota e l'altra contiene tutte le applicazioni? tutto questo lo scopriremo dopo la nostra sigla tutto questo lo scopriamo bene ragazzi, eccoci di nuovo insieme per discutere di questo particolare della struttura dell'hard disk di un classico Mac ovvero, se voi ricordate la tabella che io avevo fatto diciamo a albero, albero genealogico in un certo senso quando feci il mio tutorial per spiegare appunto come è strutturato un account classico di un Mac che cosa c'è dentro il Macintosh HD quali sono i livelli e sottolivelli presenti di base su ogni Mac se vi ricordate questo era lo schema che avevo preparato come vedete abbiamo il Macintosh HD alla radice di tutto dopodiché al suo interno abbiamo quattro cose applicazioni, librerie, sistema e utenti all'interno di utenti abbiamo la nostra cartella home insieme a altre cose eventuali cartelle home di altri utenti e all'interno della nostra cartella home abbiamo le nostre cartelle personali con le nostre foto, con i nostri filmati, con la nostra musica eccetera eccetera ma se vedete all'interno della cartella home c'è una seconda cartella delle applicazioni e questa qui nella maggior parte dei casi è sempre quella vuota mentre la cartella delle applicazioni che si trova più alla radice diciamo così diciamo nel primo sottolivello subito all'interno del Macintosh HD è quella dove trovate tutte le applicazioni ma andiamo a vedere nella realtà questa cosa perché magari può essere un po' più facile e meno astratto vedendo mentre si sta spiegando allora se io apro la mia cartella del Finder vedete io sono al livello di iMac di Alessandro che sarebbe la radice diciamo del mio iMac all'interno vabbè avete Daily Usage che è il mio harddisk esterno collegato in questo momento Music è la card che utilizzo nella mia slot dove tengo tutta la mia musica in modo che non prenda spazio sul mio harddisk eccetera eccetera ma se io guardo Macintosh HD vado a espandere Macintosh HD e vedete che all'interno trovate le quattro cose che vi avevo detto nel mio schema di prima una delle quali è applicazioni e questa applicazioni è quella che normalmente come vedete contiene tutte le applicazioni che sono state installate sul Mac sia che siano state installate manualmente sia quelle di default se però io vado dentro utenti, users c'è la mia cartella home e all'interno della quale insieme a tutte le altre cose c'è un'altra cartella delle applicazioni e questa qui è vuota vedete non c'è niente anche se io ci vado dentro non c'è niente per cui abbiamo due cartelle delle applicazioni perché due? e soprattutto perché una è piena e l'altra è vuota e soprattutto perché è sempre questa qui quella piena allora, in realtà è tutto molto semplice però se qualcuno non lo sa effettivamente potrebbe un attimino preoccuparsi ecco, il fatto è questo quando voi installate un programma che sia direttamente dall'App Store che sia da un sito di terzi o qualunque altro modo voi normalmente lo andate a inserire direttamente in questa cartella qui qual è la differenza? la differenza è che questa cartella delle applicazioni qui si trova all'interno della mia home folder cioè all'interno della mia cartella home quindi all'interno del mio account personale che in questo caso è l'unico account principale perché il Mac lo uso solo io però dobbiamo sempre ricordarci che tante volte in famiglia il Mac è utilizzato da più persone e quindi ci sono magari più utenti se vi ricordate oltre al mio utente principale io avevo creato per un precedente video questo account secondario figlio tanto per far vedere come si creava un account secondario e come si impostavano il controllo genitore e cose di questo genere e se voi andate all'interno di questo secondo account figlio che ancora non ho cancellato vedete che ci sono tutte le stesse cartelle che ci sono nel mio account principale però c'è un segno di divieto il che significa che io dal mio account principale non posso andare a smanettare nei file degli altri account perché quelli sono privati ora perché c'è questa distinzione? perché appunto la cartella delle applicazioni che si trova qui è quella del mio account mentre la cartella delle applicazioni che si trova qui è quella generale di tutto il Mac cioè disponibile a tutti gli utenti che usano questo Mac quindi se io faccio un login nell'account figlio e vado a accedere a questa cartella delle applicazioni tutte le applicazioni che sono state installate sono visibili e saranno utilizzabili perché sono a disposizione di tutti mentre se io le avessi installate qui non so se avete mai fatto caso non succede sempre succede solo con alcuni programmi ma in alcuni programmi quando voi andate a fare il download vi viene fuori un messaggio io adesso qui non ce l'ho sotto mano quindi non posso farvi vedere lo screenshot ma sostanzialmente vi viene fuori un messaggio del Finder che vi dice volete rendere disponibile questo programma anche agli altri utenti del Mac oppure no? ecco in base a cosa rispondete a quella domanda l'applicazione viene inserita qui o qui ora normalmente di default le applicazioni vengono sempre inserite qui proprio perché nella maggior parte dei casi è normale che siano disponibili anche per gli altri utenti ed è normale che come dire proprio per una questione di praticità a meno che non ci sia qualcosa di particolare da tenere segreto è normale che le applicazioni vengono inserite lì in modo che sono di default disponibili da chiunque utilizzi il Mac senza dover installare 50 volte lo stesso programma ora se voi vedete questo avviso che vi dice volete che questa applicazione sia resa disponibile anche per gli altri utenti del Mac se voi rispondete sì allora l'applicazione viene inserita qui proprio perché questa cartella delle applicazioni è accessibile da parte di tutti gli utenti da parte di Alexandros UK da parte di Figlio da parte di Guest eccetera eccetera se invece voi a quella domanda rispondete no vuol dire che quell'applicazione la volete tenere solo per voi non volete che sia visibile o utilizzabile da parte di altri utenti e in quel caso lì allora verrà inserita qui perché questa cartella delle applicazioni è all'interno della vostra cartella home del vostro account utente e quindi sarà come dire visibile e utilizzabile solamente da voi ma nella maggior parte dei casi questo avviso non lo vedete nemmeno perché molti programmi non lo chiedono nemmeno e vanno direttamente a inserirsi nella cartella delle applicazioni e infatti qui ho tutte le mie applicazioni che sono disponibili anche dagli altri utenti se vogliono quindi come vedete si tratta semplicemente di un discorso di accessi non si tratta di spazio non si tratta di nient'altro cioè non è che voi risparmiate spazio o create dei doppioni o via dicendo questo per chiarire un po' i dubbi perché appunto navigando qui e là nel computer magari un utente che non sa questa cosa si trova per due volte di fronte a una cartella delle applicazioni e se magari entra qui e vede che non c'è niente gli può vedere un colpo perché dice oddio dove sono andato a finire tutte le mie applicazioni ecco sappiate che è normale semplicemente fate attenzione a quale delle due cartelle dell'applicazione voi fate riferimento lo vedete molto bene qui perché si tratta appunto di un diagramma a albero diciamo così però può essere meno evidente se voi vedete le icone in questo modo può essere meno immediato diciamo il rapporto tra le due perché non vedete lo schema per arrivarci ecco niente questo era un piccolo particolare che volevo spiegarvi perché appunto più di una persona me l'ha chiesto e ho pensato che fosse un'ottima idea per rompere il silenzio e per fare un nuovo filmato da portare sul canale sono piccole accortezze che però possono fare veramente la differenza se qualcuno è insicuro per quanto riguarda l'uso e la navigazione sul proprio Mac per cui io spero che questo piccolo tutorial vi sia potuto essere utile se è così mi raccomando lasciate un mi piace iscrivetevi al canale non finirò mai di ripeterlo e ci vediamo la prossima volta